Eccovi ancora sul canale di PokéShiny E benvenuti per la seconda parte dell'apertura del box di Legendary Treasure Ho ribattezzato da me Legendary Bruno Mars Mi piace chiamarlo così Ditemi quello che volete ma a me piace Le carte come al solito Può farlo uscire Ok Codice E abbiamo RALS RIOLU DIWOT Eccolo qua NATU OSHAWOT MINCINO TANDARUS OLO MELOETTA E SHEMINEX Sei Eccolo Fantastico SHEMINEX penso sia una delle più belle carte Di questo set Eccovi ancora codici Abbiamo ULTERING PINIGHT RIOLU GOTITA GIBOL SOLOSIS TRABISH VIRISION 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 Apriremo Anzi Di romperemo tutti Ok SNAIVEY PALPITOD SAVLEI ARIDAYE CHARMENDER OSHAWOT TRABISH ZORO REVERSE TOXY CROAK E DEMOLGA Sempre DELLA SHENY COLLECTION FANTASTICO CODICE CODICE TEDDIURSA DRADICON ZELUS SIGUADDOL ZORUA DUEBOL VUBAT FIRE REVERSE SESMITOD E GARDWIRE Sempre DELLA SHENY E' Praticamente Impossibile Salvarlo Ah Questo Diciamo Quasi Diciamo Quasi Torchic Gabite Spiritomb SNAIVEY OSHAWOT MINCINO SEAWADDOL VICTINIOLO Bellissimo NINTELESS E' UN'ALTRO CURLOIN Io ci provo sempre a salvare i ragazzi ma niente Sono proprio Quasi impossibili da salvare E abbiamo Di nuovo Elisa O ELESA GABITE BUFFALANT TIMEPOL ZORUA DEINO GOTITA CINCINOLO REUNICLUS E PIPLAP Allora abbiamo RALS CARUBY SHACKLE DEINO CHARMENDER DAIEN ALTRA VORTA TIMEPOL SOLO SIS REVERSE FION E PIKACHU SEMPE DELLA SHINEE ANCORA 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 AVANTI E' VERAMENTE UN PECCATO CHE NOLABBIANO TRADOTTO IN ITALIANO VABE COMUNQUE KIRLIA DUOSION SHACKLE VUBAT SOLOSIS GIBOL KROGUNK ENERGY SWITCH WHITE CURE MX E MELOETA EX AMO QUESTI PACCHETTI SONO EX EX FULL ARTI INSIEME BELLISSIMO VERAMENTE BELLISSIMO Niente Non c'è niente da fare DE DIURZA ALTARIA MAINUN NATU DUEBOL KROGUNK GOTITA LIVANNI REVERSE UN ALTRO SEISMITOD E SERPERIOR E SERPERIOR ULTIMO PACCHETTO DI QUESTA SECONDA PARTE A A COSTO PACCHETTO SI E' PROPRIO APERTO ALLA GRANDE QUINI NON CI TORRÒ VERAMENTE NIENTE ALLA GRANDE ULTERING PALPITOD MAINUN CHARMENDER OSHAWOT TRABISH SAMURO TOLO XATU E GARDEWARE infatti ovviamente non c'era un emerito benissimo ragazzi anche questa parte finisce qui vi aspetto per la prossima